Avete presente quei mega attori di Hollywood che si divertono con gli aerei tipo Tom Cruise che pilota personalmente gli aerei nei film? O non so, John Travolta che ha la casa a forma di aeroporto, ha tipo tutti i rating possibili e può pilotare aerei come il 380 o il 707? Ecco, se vi dicessi che anche in Italia abbiamo un attore del genere, non solo pilota ma è stato anche il fondatore di una compagnia aerea che oggi esiste ancora ed è la compagnia delle poste italiane. Ma andiamo con ordine, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo canale dove parliamo di aerei. Se non sapete perché ho dei sedili di Airbus A380 alle mie spalle è perché vi siete persi il video in cui andavo a comprare pezzi di aereo a Tolosa, vi lascio il link qua. Ma noi partiamo dall'inizio della nostra storia di oggi. Inizia qualche giorno fa quando Alessandro Morolla ha pubblicato su Instagram, a caso perché stava prendendo un aereo, una foto di un aereo delle poste italiane lì al parcheggio in aeroporto. E a quanto pare la cosa ha suscitato mega scalpore tra i suoi follower, tanto che un sacco di gente gli ha scritto in DM, tutti che non sapevano neanche che esistesse una compagnia aerea di poste italiane. E quindi tipo appena è atterrato da quel volo mi ha mandato questo vocale Marco devi assolutamente fare un video sugli aerei delle poste. E allora sì, ho deciso di farci un video, anche perché se può sembrare un argomento poco interessante, in realtà la storia che ci sta dietro lo è come. Ma prima di tutto, perché pochi conoscono il servizio di linea di poste italiane? Primo perché hanno relativamente pochi aerei. Hanno 5 Boeing 737 più altri 2 ATR 72 per un totale di 7 aerei e basta. Che però, per coprire il territorio nazionale, sono più che sufficienti. Ma diciamo che è normale non vederli spesso in giro. Non è Ryanair che ha 500 aerei in flotta. Il secondo motivo molto importante per il quale pochissimi li conoscono è perché oltre ad avere pochi aerei, volano solo di notte. Di giorno infatti sono praticamente impossibili da vedere in giro, se non al loro hub di Brescia. Poi di notte la corrispondenza vola in tutta Italia in poche ore e la mattina le buste e i piccoli pacchi che hanno già fatto la maggior parte della strada vengono poi diramate nei vari centri postali e ai portalettere eccetera eccetera. Però pensate, ogni notte questa cosa si ripete. Questa piccola flotta di 7 aerei prende vita e infatti il modo migliore per vederli è aprire Flightradar24 a mezzanotte e molto probabilmente vedete in giro loro e pochi altri sui cieli dell'Italia. Bene, bello, però ho iniziato il video parlando di attori. E il motivo è che la compagnia aerea di poste italiane è stata fondata da Bud Spencer. Proprio quello che con Terence Hill ha guadagnato la fama mondiale con film come Altrimenti Ci Arrabbiamo o gli Infiniti Spaghetti Western. Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, nasce in realtà come nuotatore agonistico tanto che ha partecipato anche a diverse olimpiadi e solo in una seconda parte della vita, nel 1967, quando aveva già 38 anni accetta il primo ruolo nel cinema e neanche così convinto. Da lì però inizia tutta la sua carriera che lo porterà a diventare quello che oggi conosciamo un nome che se pronunci è subito riconosciuto e se ci fate caso in parecchi film come Chi trova un amico trova un tesoro ad esempio lo vediamo pilotare aerei. Infatti sì, era un pilota. Il tutto nasce nel 1972 proprio in occasione di un film che si chiama Puntini Puntini Più Forte Ragazzi quando dovete pilotare un piccolo aereo da turismo il film in realtà ha diverse scene su aerei anche più grossi che sicuramente non ha pilotato lui, quelli grossi. Però in ogni caso, dopo quel film si innamorò del volare, dell'aviazione e prese il brevetto da pilota privato quello che oggi è il PPL, quello che ho fatto io. Alla fine funziona sempre così quando qualcuno ti introduce al mondo dell'aviazione è finita da quando fai il primo decollo a quando fai l'esame per la licenza PPL il passo è troppo breve. Comunque per Bud Spencer non fini con il PPL perché nel 1981, ormai famoso pieno di soldi e tutte cose decide di fondare una sua compagnia aerea privata la Mistral Air che in realtà all'inizio aveva in flotta un singolo aereo un Grandman Gulfstream G159 per effettuare collegamenti tra Pantelleria e Lampedusa cioè proprio una sola rotta, un solo aereo però compagnia aerea era l'inizio di un qualcosa di grande infatti negli anni successivi la compagnia comprò altri tre aerei erano tre British Aerospace BE-146 dei relativamente piccoli aerei quadrimotore jet piuttosto diffusi si potevano vedere in Italia ancora fino a due anni fa prima che gli ultimi venissero dismessi come tipo di aereo in generale non quelli di Bud Spencer comunque questi 146 erano in configurazione cargo cioè per portare merci e facevano i voli per la TNT il corriere TNT alla quale Bud Spencer a una certa decide di regalare la compagnia aerea perché gli costava troppo da mantenere sia come costi sia come impegno comunque negli anni 90 Mistral Air viene ceduta regalata a TNT da Bud Spencer TNT a sua volta nel 2005 quindi comunque un decennio e mezzo dopo vende Mistral Air alle poste italiane che in realtà dal 2005 fino al 2019 mantennero il nome Mistral quindi il nome originale è rimasto fino al 2019 quando poi la compagnia è stata rinominata in poste air cargo e di conseguenza hanno anche ridipinto gli aerei con la nuova livrea a poste italiane gialla e bianca e cose varie ad oggi poste air cargo ad opera principalmente Boeing 737 Classic in configurazione cargo chiaramente devono portarla apposta ma nonostante per facilitare il carico e lo scarico del cargo a questi Boeing sia stato aggiunto il classico portellone cargo sul lato e gli interni chiaramente sono vuoti con giusto le rotaie sul pavimento per agganciare i pallet assicurando il carico ed evitando che si sposti durante il volo nonostante tutto questo cioè sono aerei palesemente cargo essendo Boeing 737 Classic sono piuttosto versatili e infatti se vedete tutti questi aerei hanno i finestrini seppur coperti dal colore del poste italiane perché questo tipo di aereo può essere molto facilmente convertito da cargo a passeggeri e viceversa quindi in un attimo se il poste italiano decide di vendere questi aerei e li compra qualcuno che vuole metterci i passeggeri si cazza giù un pavimento di moquette si agganciano i sedili togli la pellicola gialla da fuori e hai un aereo passeggeri che può imbarcare dalle classiche porte quella davanti e quella dietro non è proprio così semplice però più o meno sì pensate il 737 Classic come aereo è talmente versatile che in America alcune compagnie lo usano a mezzo a mezzo usano proprio metà per passeggeri e metà per cargo con una paratia e mezzo proprio l'aereo diviso a metà a proposito dei passeggeri in passato Mr Allaire fece alcune tratte con passeggeri oltre a quella Lampedusa Pantelledia coprivano queste tratte passaggeri con gli ATR 72 degli aerei turboprop cioè con le elicone detta terra terra ma non mi risulta che ad oggi abbiano più nessuna rotta attiva per passeggeri solo quei 7 aerei che ogni notte smistano posta in giro per il paese anche perché con i tempi che corrono con gli e-commerce con la gente che compra roba da internet banalmente sicuramente hanno preferito dedicare tutta la flotta a cargo visto che di lavoro ne hanno e anzi anche se non sono previsti ordini di aerei è probabile che a una certa aggiorneranno la flotta magari con aerei un po' più recenti dei 737 Classic o magari aggiungendone anche altri in flotta in conclusione mentre mettete un pollice in su al video se il video vi è piaciuto questa compagnia aerea seppur abbia fatto un po' di passaggi di proprietà e regalo e vendita e cose varie se le poste italiane ad oggi hanno un servizio aereo è anche grazie a Bud Spencer alla sua passione per il volo e alla compagnia che con un singolo aereo fondò nel 1981 pollice in su ciao a tutti iscrivetevi al canale ciao a tutti iscrivetevi al canale